Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette al baffo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per le polpette, macinato di carne, uova, parmigiano, pecorino, prezzemolo e basilico, sale, pepe e pangrattato. Per la salsa, salsa di pomodoro, panna da cucina, cipolla, pancetta affumicata, olio evo, concentrato di pomodoro, prezzemolo, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano, il pecorino, il prezzemolo e il basilico ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungere il macinato, le uova, il pangrattato, il pepe e il sale. Ed azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 4. formare le polpette, passarle nel pangrattato e riporle in una teglia rivestita con carta da forno. Senza lavare il boccale, preparare la salsa. Mettere la cipolla ed azionare il bimbi per 3 secondi a velocità 7. riunire sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 3 minuti 120 gradi. Velocità 3. riunire sul fondo del boccale con la spadola. aggiungere la pancetta ed azionare il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. aggiungere il concentrato di pomodoro, la salsa di pomodoro, e aggiungere il bimbi per 20 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa. aggiungere la panna ed azionare il bimbi per 8 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. le polpette sono cotte, trasferirle in una pitofila. la salsa è pronta, versarla sulle polpette. lasciare riposare per 5 minuti, spolverizzare con il prezzemolo tritato e servire. polpette al baffo. grazie e alla prossima ricetta! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti!